Sì grazie, penso che avete detto tutto, è stato veramente bellissimo, abbiamo ricevuto tantissimi commenti di grande felicità, positivi, il territorio è piaciuto a tutti, il giro è piaciuto a tutti, quello corto, quello lungo, quello di ieri turistico e l'organizzazione qua è stata magnifica, quindi non posso che ringraziarvi veramente per tutto il lavoro svolto, siamo molto contenti, grazie. Però noi abbiamo veramente ringraziato Aso, abbiamo ringraziato extra giro, il comune di Parma, Marco, poi ci sono altre sorprese, vai. Io voglio ringraziare anzitutto tutti quelli che hanno lavorato in questa manifestazione, tutti quelli che lavorano con noi, i collaboratori, i volontari, tutti quelli che hanno dato un pezzo, hanno contribuito per fare anche solo un metro di questa gara, insomma sono stati tanti, abbiamo più di 150 persone che hanno lavorato in questi mesi, per cui va loro il nostro primo ringraziamento. Abbiamo dei ragazzi, delle scuole che hanno partecipato in un progetto di scuola lavoro, abbiamo dei volontari che hanno aderito spontaneamente, abbiamo cercato di onorare il marchio del Tour de France anche col coinvolgimento e la partecipazione di tutti. L'amministrazione ci è stata vicina, hanno fatto attività, abbiamo costruito con loro dei pezzi, per cui il mio vero ringraziamento è a tutti quelli che hanno permesso che questa festa partisse da qui, partisse da questo 2024, perché la collaborazione con il Tour de France può andare avanti, andrà avanti sicuramente e noi saremo qui a fare qualche cosa ancora. Sicuramente io i ringraziamenti sono due giorni che andiamo a ringraziare la regione Emilia Romagna, APT Sport Valley, il Comune di Parma, ma anche sono andato orte con i ringraziamenti perché la legge è dell'Axi e io vorrei avere un grosso applauso per Emiliano Borgna, responsabile nazionale Axi. Vieni Emi, oramai siamo con tutto questo salottino finale. Emiliano, cosa ti viene da dire? Oramai sai che Axi è colui che ha tante gran fondo, gestisce tante gran fondo, ma se si parla di livello, se si parla di impegno, se si parla di originalità, Emiliano, quanto sei felice di questo evento? Allora, buongiorno a tutti. Io ringrazio Extra Giro perché Extra Giro ha reso l'Italia grande, ha reso l'Italia grande durante l'anno del Covid, lo sappiamo tutti, e credetemi, inventarsi un evento come questo in quattro mesi era di nuovo un'altra follia, tra virgolette, credo che sia stata una follia che abbiamo visto tutti e che ci porteremo a casa, è un progetto molto bello che andrà avanti, si svilupperà, perché lo sapete, i ciclisti, noi ciclisti abbiamo un gergo particolare, si dice che non sono i percorsi a fare le gare, ma sono i ciclisti. Extra Giro davvero ci sa fare, si meritano questa partecipazione, si meritano davvero i complimenti di tutti. Signori e signori, io credo, oramai Marco, che siamo sul gran finale. René, noi ti ringraziamo, fai sentire anche la tua voce ogni tanto? No, ci sono veramente complimenti per tutta la manifestazione, per l'organizzazione, e volevo fare un saluto a Carla, che veramente in questi giorni si è impegnata, è della donna multitasking, evviva le donne! Ma io guardate, voglio spezzare una lancia a favore di Extra Giro, Extra Giro ormai ci ha accompagnato veramente, ormai sono anni, sono un gruppo spettacolare che quando vedi una maglia blu e ha un problema, te lo risolve. Ma probabilmente Emiliano, questa esperienza è dovuta, quant'anni è che spigete il ciclismo giovanile, avete fatto il ciclismo e state facendo il ciclismo dei professionisti, insomma siete nel cicloturismo, ora c'è questo prodotto. Non so cosa, quante ne penserete, ma io so solo che vi devo dire grazie, tutto il ciclismo vi dovrebbe dire grazie. Grazie veramente a tutti, ultimo pezzo signori e signori!